Ciao ragazzi, l'altro giorno stavo guardando i vecchi video e le vecchie foto mie di qualche anno fa e ho detto cavolo, sono cambiata tantissimo in questi anni. Per esempio, c'è il video che adesso vi manderò che risale a 4 anni fa. Se potessi paragonarmi, io mi paragonerei ad una balena incinta che si dà per partorire. Proprio una barena. E adesso un po' di foto. Io a 18 anni in una gita scolastica. La mia prima volta all'estero. Viaggio in Inghilterra. Sempre in Inghilterra e ho capito che i cani inglesi sono molto più educati rispetto a quelli italiani. Io quando sono svenuta. E adesso ci godiamo un po' di errori che ho fatto nella ginnastica. Inghilterra e ho capito che i cani inglesi sono molto più e ho capito che i cani inglesi sono molto più educati rispetto a che i cani inglesi sono molto più e ho capito molto più bund! Ci rivediamo la prossima volta con un nuovo video! located in Inghilterra